«Tutto ciò che siete...» «Che cosa sono i cerchi?» «Guida...» «I cerchi sono la manifestazione della vita...» «Tutto ciò che siete nel vostro percorso evolutivo è qui...» «Voi non lo pensate...» «Ma tutti voi presenti siete qui per un motivo ben preciso...» «Che ha un perché...» «E non è un caso...» «Bei...» « ... спirme la visione bale» «Voio, unoí...»